Romana Maceri Centro Italia. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. La Romana Maceri Centro Italia è fatta a raccolta, recupero, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non. La Romana Maceri è un centro autorizzato di stoccaggio e selezione di rifiuti speciali ed effettua assistenza e consulenza per il settore ambientale. Si occupa di smaltimento e rimozione di amianto, stoccaggio di oli esausti vegetali e riciclaggio di materie plastiche.